Cari amici di Numismatica per Darmis, benvenuti sul canale. Oggi vediamo un 10 centesimi, cosiddetto APE, moneta in rame, del diametro di 22 mm, un peso di quasi 5,5 g. Vediamolo un attimo in descrizione. Allora, sul rovescio, è un'APE che coglie il nettare da un fiore. In basso la data di emissione e il valore luminale, 10 centesimi. Girandola sul dritto, testa di Rai Vittorio Emanuele III, in basso la firma dell'incisore. Moneta, anche questo è stile neoclassico. Le monete pre-periodo fasciste sono tutte, a mio avviso, di ottima fattura, di ottimi disegni. Questo perché, ricordate, Vittorio Emanuele III, re d'Italia, fu un grande numismatico, grande collezionista, per cui volle una maggiore cura verso le sue monete. Fino appunto alla poi venuta del fascismo, dove si diede più importanza ai simboli politici, quali appunto il fascio dittorio. Bene, cari amici, io vi ringrazio, come sempre. Vi chiedo un like e l'iscrizione al canale. Se avete da pormi delle domande sono sempre ben accette. In particolare volevo dirvi che monete 10 centesimi app sono monete comuni, tranne, ricordo, il 1919, quella rara, per cui anche in condizioni MB vi chiedono una cinquantina di euro. Le altre sono comuni e le trovate a 5-10 euro a qualsiasi mercatino. Bene, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.